La divisione calcio a 5 della LND, preso atto del ricorso della Chaminade alla Corte d'Appello, ha deciso di posticipare, giustamente aggiungiamo noi, le date di gioco dei play-off per la promozione in A2. Calendario nuovo con gara 1 delle semifinali sabato 11 maggio, ritorno una settimana dopo il 18. Slittamento ovviamente anche per la finale, andata il 25 maggio, ritorno il 1 giugno. Una decisione assolutamente condivisibile, viste le tempistiche davvero ridotte per il ricorso della società presieduta dal presidente Scarnata. La richiesta è riconoscere l'effettiva irregolarità del gol realizzato dall'Eta Beta Futsal dopo il suono della sirena di chiusura del match. Una condizione assolutamente certificata dalle immagini televisive che, seppur non riconosciute in sede di giudizio, rappresentano una prova chiara del torto subito dalla squadra diretta da Massimiliano Di Cuia. In attesa del giudizio, il rosoblu sono a lavoro per mantenere la concentrazione con l'auspicio di una riammissione negli spareggi. Dunque rinviata sabato prossimo la gara dei play-off per il CLN Cus Molise contro il Chieti. Sabato scorso, Cussini sconfitti a Corinaldo e scavalcati al fotofinish dal Cus Ancona, capaci di espugnare il campo dei campioni del Lucrezia con la mente in vacanza da tempo. Marchigiani secondi, Cus terzo. Ecco dunque l'accoppiamento con i Teatini, quarti in classifica, con la sfida da andata dei play-off in terra abruzzese. Mister Sanginario sta preparando i suoi al meglio per la fase più bella e importante della stagione, con una settimana in più di allenamento sulla tabella di marcia prevista. Dall'ottica dei Cussini l'arrivo alla post-season è sicuramente un risultato fantastico, impensabile ad inizio stagione, dove l'unico obiettivo era quello della salvezza. Una stagione poi costruita passo dopo passo, con il cambio di obiettivi e la consapevolezza di poter giocare questa post-season con tutta la tranquillità del caso. Senza assiglie e senza ansie, con la tranquillità di un gruppo che si è cementificato piano piano, sino ad ottenere un risultato davvero importante. Una settimana d'attesa e poi il via alla fase cruciale della stagione. Intanto domani si gioca la finalissima play-off del campionato regionale di C1, tra la polisportiva Venafro ed il Fuzza al Torre Maggiore. Al Pala Selvapiana di Campobasso alle 16 la sfida per decretare l'accesso diretto al campionato di Serie B, tra le vincenti play-off dei gironi A e B. Gara secca con due tempi da 30 minuti, eventuali supplementari da 5 ciascuno e in caso di ulteriore parità tre calci di rigore. Previsto un grande pubblico per assistere all'ultimo atto del campionato regionale.